Profeta Neemia, capitolo primo. E quelle mi dissero, tremendo, che mantieni il patto e la misericordia con quelli che t'amano e osservano i tuoi comandamenti, siano le tue orecchie attente e i tuoi occhi aperti, ed ascolta la preghiera del tuo servo, la quale io fo adesso dinanzi a te giorno e notte per i figlioli di Israele tuoi servi, confessando i peccati dei figlioli di Israele, Peccati che noi abbiamo commessi contro di te, sì che io e la casa di mio padre abbiamo commessi. Noi ci siamo condotti malvagiamente contro di te, e non abbiamo osservato i comandamenti, le leggi e le prescrizioni che tu desti a Mosè tuo servo. De, ricordati della parola che ordinasti a Mosè tuo servo di pronunziare. Se sarete infedeli, io vi disperderò fra i popoli, ma sottornerete a me e osserverete i miei comandamenti e li metterete in pratica. Quant'anche i vostri dispersi fossero agli estremi confini del mondo, io di là li raccoglierò e li ricondurrò al luogo che ho scelto per far la dimora del mio nome. Or questi sono tuoi servi, tuo popolo, tu li hai redenti con la tua gran potenza e con la tua forte mano. O Signore, te ne prego, siano le tue orecchie attenti alla preghiera del tuo servo e alla preghiera dei tuoi servi che hanno a cuore di temere il tuo nome. Concedeli oggi, ti prego, buon successo al tuo servo, e fa che trovi pietà agli occhi di quest'uomo. Allora io ero il coppiere del re. Nemia, capitolo secondo L'anno ventesimo del re Artaserse, nel mese di Nisam, come il vino stava dinnanzi al re, io presi il vino e glielo porsi. Or io non ero mai stato triste in sua presenza, e il re mi disse, perché hai l'aspetto triste? Eppure non sei malato, non può essere altro che un'afflizione del cuore. Allora io ebbi grandissima paura e disse al re, viva il re in eterno! Come potrebbe il mio aspetto non essere triste, quando la città dove sono i sepolcri dei miei padri è distrutta, e le sue porte sono consumate dal fuoco? E il re mi disse, che cosa domandi? Allora io pregai l'iddio del cielo, e poi risposi al re, se così piace al re, e il tuo servo ha incontrato favore agli occhi tuoi, mandami in Giudea, nella città dove sono i sepolcri dei miei padri, perché io la riedifichi. E il re, che aveva la regina seduta al lato, mi disse, quanto durerà il tuo viaggio, quando ritornerai? La cosa piacque al re, e mi lasciò andare, e io gli fissai un termine di tempo. Poi disse al re, se così piace al re, mi si diano delle lettere per i governatori oltre il fiume, affinché mi lasciano passare ed entrare in Giudea, e una lettera per Asaf, guardiano del parco del re, affinché mi dia delle gname per costruire le porte del castello ammesso alla casa dell'Eterno, per le mura della città e per la casa che abiterò io. E il re mi diede le lettere, perché la benefica mano del mio Dio era su me. Io giunsi presso i governatori d'oltre il fiume, diedi loro le lettere del re. Il re aveva mandato i meco dei capi dell'esercito e dei cavalieri. E quando Samballat, lo Ironita, e Tobia, e il servo Ammonita furono informati del mio arrivo, ebbero gran dispiacere della venuta di un uomo che procurava il bene dei figlioli di Israele. Così giunsi a Gerusalemme, e quando vebbe il passato tre giorni, mi levai di notte, presi meco pochi uomini, e non dissi nulla ad alcuno di quello che Dio mi aveva messo in cuore di fare per Gerusalemme, non avevo meco altro giumento che quello che io cavalcavo. Ed uscii di notte per la porta della valle, e mi diressi verso la sorgente del dragone e la porta dell'etame, considerando le mura di Gerusalemme come erano rotte, e come le sue porte erano consumate dal fuoco. Passai presso la porta della sorgente e il serbatoio del re, ma non vera posto per cui il giumento che io cavalcavo potesse passare. Allora risali di notte alla valle, sempre considerando le mura, e poi rientrando per la porta della valle me ne tornai a casa. I magistrati non sapevano né dove io fossi andato, né che cosa facessi. Fino a quel momento io non avevo detto nulla né ai giudei né ai sacerdoti né ai notabili né ai magistrati né ad alcuno di quelli che si occupavano di lavori. Allora io dissi loro, voi vedete la misera condizione nella quale ci troviamo. Gerusalemme è distrutta, le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ridifichiamo le mura di Gerusalemme, e non saremo più nello proprio. E narrai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su me, senza omettere le parole che il re mi aveva dette, e quelli dissero, leviamoci, mettiamoci a costruire. E si fecero animo per metter mano alla buona impresa. Ma quando Samballat, l'Oironita e Tobia, e il servo Ammonita e Geshem e l'Arabo seppero la cosa, si fecero beffe di noi, e ci sprezzarono dicendo, che cosa state facendo? Voi volete forse ribellare anche contro al re? Allora io risposi e dissi loro, l'Iddio del cielo è quegli che ci darà buon successo. Noi, i suoi servi, ci leveremo e costruiremo, ma voi non avete né parte né diritto né ricordanza in Gerusalemme. Neemia capitolo terzo Elia Shib, sommo sacerdote, si levò coi suoi fratelli sacerdoti, e costruirono la porta delle pecore, la consacrarono e vi misero le sue imposte, continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che consacrarono, e fino alla torre di Annaneel. A lato a Elia Shib lavorarono gli uomini di Gerico, e a lato loro lavorò Zakur, figliuolo di Imri. I figliuoli di Senaah costruirono la porta dei pesci, ne fecero l'intelaiatura, vi posero le imposte, le serrature, le sbarre. A lato a loro lavorò alle riparazioni Meremoth, figliuolo di Uria, figliuolo di Hakotz. A lato a loro lavorò alle riparazioni Meshulam, figliuolo di Berechia, figliuolo di Meshezabael. A lato a loro lavorò alle riparazioni Tzadok, figliuolo di Baanna. A lato a loro lavorarono alle riparazioni i Tecoiti. Ma i principali fra loro non piegarono i loro colli a lavorare all'opera del loro signore. Gioiada, figliuolo di Pasaia, e Meshulam, figliuolo di Besodeia, restaurarono la porta vecchia, ne fecero l'intelaiatura, vi posero le imposte, le serrature e le sbarre. A lato a loro lavorarono alle riparazioni Meletia, il Gabonita, Giodon, il Meromothia, e gli uomini di Gabon e di Mizpah, che dipendevano dalla sede del governatore d'oltre il fiume. A lato a loro lavorò alle riparazioni Uziel, figliuolo di Harnaia, di tre orefici, e a lato a lui lavorò Anania, di tra i profiumieri. Essi lasciarono stare Gerusalemme come era fino al muro largo. A lato a loro lavorò alle riparazioni Refaia, figliuolo di Hur, capo della metà del distretto di Gerusalemme. A lato a loro lavorò alle riparazioni di Rimpetto alla sua casa, Gedaia, figliuolo di Arumaf, e a lato a lui lavorò Attush, figliuolo di Ashabaniah, Malchia, figliuolo di Arim, e Usahub, figliuolo di Pat Moab, restaurarono un'altra parte delle mura e la torre dei forni. A lato a loro lavorò alle riparazioni con le sue figliole Shelum, figliuolo di Oloesh, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Anum e gli abitanti di Zanoat restaurarono la porta della valle, la costruirono, vi posero le imposte, le serrature e le sbarre. Fescero inoltre mille cubiti di muro fino alla porta dell'etame. Malchia, figliuolo di Reqab, capo del distretto di Bet Akeram, restaurò la porta dell'etame, la costruì, vi pose le imposte, le serrature e le sbarre. Shalom, figliuolo di Ko Oset, capo del distretto di Mizpah, restaurò la porta della sorgente, la costruì, la coperse, vi pose le imposte, le serrature e le sbarre. Fece inoltre il muro del serbatoio di Scela, presso il giardino del re, fino alla scalinata per cui si scende dalla città di Davide. Dopo di lui Neemia, figliuolo di Atzbuk, capo della metà del distretto di Bethzur, lavorò alle riparazioni fin di rimpetto ai sepolcri di Davide, fino al serbatoio che era stato costruito, e fino alla casa dei prodi. Dopo di lui lavorarono alle riparazioni, i leviti sotto Rehum, figliuolo di Bani, e al lato a lui lavorò per il suo distretto a Shabia, capo della metà del distretto di Keilah. Dopo di lui lavorarono alle riparazioni i loro fratelli sotto Bevai, figliuolo di Hanadad, capo della metà del distretto di Keilah. E al lato a lui, Ezer, figliuolo di Yahshua, capo di Mizpah, restaurò un'altra parte delle mura di rimpetto alla salita dell'arsenale all'angolo. Dopo di lui Baruch, figliuolo di Zakai, ne restaurò con l'ardore un'altra parte dall'angolo fino alla porta della casa di Eliashib, il sommo sacerdote. Dopo di lui, Meremoth, figliuolo di Uriah, figliuolo di Akkos, ne restaurò un'altra parte dalla parte della casa di Eliashib fino all'estremità della casa di Eliashib. Dopo di lui, lavorarono i sacerdoti che abitavano il contado. Dopo di loro, Beniamino e Ashub lavorarono di rimpetto alla loro casa. Dopo di loro, Azaria, figliuolo di Meshia, figliuolo di Anania, lavorò presso la sua casa. Dopo di lui, Binui, figliuolo di Hanadad, restaurò un'altra parte delle mura dalla casa di Azaria fino allo svolto e fino all'angolo. Palal, figliuolo di Utsai, lavorò di rimpetto allo svolto e alla torre sporgente della casa superiore del re che dà sul cortile della prigione. Dopo di lui, lavorò Pedahia, figliuolo di Parosh. I Neitinei, che abitavano sulla collina, lavorarono fino di rimpetto alla porta delle acque verso oriente e di rimpetto alla torre sporgente. Dopo di loro, i Tecoiti ne restaurarono un'altra parte di rimpetto alla grande torre sporgente e fino alle mura della collina. I sacerdoti lavoravano alle riparazioni al di sopra della porta dei cavalli, ciascuno di rimpetto alla propria casa. Dopo di loro, Satok, figliuolo di Immer, lavorò di rimpetto alla sua casa. Dopo di lui, lavorò Shemaia, figliuolo di Shecania, guardiano della porta orientale. Dopo di lui, Anania, figliuolo di Shela Mia, e Anum, sesto figliuolo di Zafal, restaurarono un'altra parte delle mura. Dopo di loro, Meschulam, figliuolo di Berechia, lavorò di faccia alla sua camera. Dopo di lui, Malchia, uno degli orefici, lavorò fino alle case dei Neitinei e dei mercanti di rimpetto alla porta di Amikfat e fino alla salita dell'angolo. E gli orefici e i mercanti lavorarono alle riparazioni fra la salita dell'angolo e la porta delle pecore. Neemia, capitolo quarto. Quando Sambalat udì che noi edificavamo le mura, si adirò e si indignò fuori di modo e si febbeffe dei Giudei e disse in presenza dei suoi fratelli e dei soldati di Samaria, che fanno questi spossati Giudei? Si lasceranno fare? Offriranno sacrifici? Finiranno in un giorno? Faranno essi rivivere delle pietre sepolto sotto mucchi di polvere consumate dal fuoco? Tobia, la munita che gli stava accanto, disse, edifichino pure, se una volpe vi salta sopra farà crollare il loro muro di pietra. Ascolta, o Dio nostro, come siamo sprezzati, fa ricadere sul loro capo il loro vituperio e abbandona l'alzaccheggio in un paese di schiavitù e non coprire la loro iniquità e non sia cancellato dal tuo cospetto il loro peccato poiché t'hanno provocato ad ira in presenza dei costruttori. Noi dunque riedificheremo le mura che furono da per tutto compiute fino alla metà della loro altezza e il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Ma quando Samballat, Tobia, gli Arabi, gli Ammoniti e gli Astodei ebbero udito che le riparazioni delle mura di Gerusalemme progredivano e che le brecce cominciavano a chiudersi, ne ebbero grandissimo sdegno e tutti quanti assieme congiurarono di venire ad attaccare Gerusalemme e crearvi del disordine. Allora noi pregammoli Dio nostro e mettemmo contro di loro delle sentinelle di giorno e di notte per difenderci dai loro attacchi. Quei di Giuda dicevano le forze e dei portatori di pesi vengono meno e le macerie sono molte noi non potremo costruire le mura. E i nostri avversari dicevano essi non sapranno e non vedranno nulla finché noi giungiamo in mezzo a loro allora li uccideremmo e fare incessare i lavori. E siccome i Giudei che dimoravano vicino a loro vennero a dirci dieci volte e riferirci la cosa da tutti i luoghi di loro provenienza io nelle parti più basse del posto dietro le mura in luoghi aperti disposi il popolo per famiglie con le loro spade le loro lance e i loro archi e dopo aver tutto ben esaminato mi levai e dissi ai notabili e ai magistrati e al resto del popolo non li temete ricordatevi del Signore grande e tremendo e combattete per i vostri fratelli per i vostri figlioli e figliuole per le vostre mogli e per le vostre case. Quando i nostri nemici udirono che eravamo informati della cosa e Dio frustrò il loro disegno e noi tutti tornammo alle mura ognuno al suo lavoro da quel giorno la metà dei miei servi lavorava e l'altra metà stava armata di lanci e di scudi d'archi e di corazze e i capi erano dietro a tutta la casa di Giuda quelli che costruivano le mura e quelli che portavano e caricavano i pesi con una mano lavoravano e con l'altra tenevano la loro arma e tutti i costruttori lavorando portavano ciascuno la spada cinta ai fianchi il trombettiere stava accanto a me e io dissi ai notabili e ai magistrati e al resto del popolo l'opera è grande ed estesa e noi siamo sparsi sulle mura e distanti l'un dall'altro dovunque udrete il suon della tromba qui vi raccoglietevi presto di noi lì Dio nostro combatterà per noi così continuavamo i lavori mentre la metà della mia gente teneva impugnata la lancia dallo spuntar dell'alba all'apparire delle stelle in quel medesimo tempo io dissi al popolo ciascuno di voi resti la notte dentro Gerusalemme con i suoi servi per far con noi la guardia durante la notte e riprendere il lavoro di giorno io poi i miei fratelli i miei servi gli uomini di guardia che mi seguivano non ci spogliavamo ognuno aveva l'arma a portata di mano Neemia capitolo quinto or si levò un gran lamento da parte di quei del popolo e delle loro moglie contro ai giudei loro fratelli venera anche dicevano noi i nostri figli e le nostre figliuole siamo numerosi ci si dia del grano perché possiamo mangiare e vivere altri dicevano impegniamo i nostri campi le nostre vigne e le nostre case per assicurarci del grano durante la carestia altri ancora dicevano noi abbiamo preso del denaro in prestito sui nostri campi e sulle nostre vigne per pagare il tributo del re ora la nostra carne è come la carne dei nostri fratelli i nostri figliuoli sono come i loro figliuoli ed ecco che dobbiamo sottoporre i nostri figliuoli e le nostre figliuoli alla schiavitù e alcune delle nostre figliuole sono già ridotte schiave e noi non possiamo farci nulla giacché i nostri campi e le nostre vigne sono in mano d'altri quando udì i loro lamenti e queste parole io mi indignai forte e dopo matura riflessione ripresi aspramente i notabili e i magistrati e dissi loro come voi prestate suppegno ai vostri fratelli e convocai contro di loro una gran radunanza e dissi loro noi secondo la nostra possibilità abbiamo riscattato i nostri fratelli giudei che si erano venduti ai pagani e voi stessi vendereste i vostri fratelli ed essi si venderebbero a noi allora quelli si tacquero e non seppero che rispondere io dissi pure quello che voi fate non è ben fatto non dovrete voi camminare nel timore del nostro Dio per non essere oltraggiati dai pagani i nostri nemici anch'io e i miei fratelli e i miei servi abbian dato loro in prestito denaro e grano vi prego condoniamo loro questo debito rendete loro oggi i loro campi le loro vigne e i loro uliveti e le loro case e la centesima del denaro del grano e del vino e dell'olio che avete esatto da loro come interesse quelli risposero restituiremo tutto e non domanderemo più nulla da loro faremo come tu dici allora chiamai i sacerdoti e in loro presenza li feci giurare che avrebbero mantenuta la promessa io scossi inoltre il mio mantello e dissi così scuote il Dio dalla sua casa e dai suoi beni chiunque non avrà mantenuto questa promessa e così sia il discosso e resti senza nulla e tutta la radunanza disse amen e celebrarono l'eterno e il popolo mantenne la promessa di più dal giorno che il re mi stabilì loro governatore nel paese di Giuda dal ventesimo anno fino al trentaduesimo anno del re Artaserse durante dodici anni io i miei fratelli non mangiamo della provvisione assegnata al governatore i governatori che mi avevano preceduto avevano gravato il popolo ricevendone pane e vino oltre a quarantacicli d'argento perfino i loro servi angariavano il popolo ma io non ho fatto così perché ho avuto timore di Dio anzi ho messo mano ai lavori di riparazione di queste mura e non abbiamo comprato per un campo e tutta la mia gente si è raccolta là a lavorare e avevo alla mia mensa centocinquanta uomini giudei e magistrati oltre a quelli che venivano a noi dalle nazioni circonvicine e quel che mi si preparava per ogni giorno era un bue sei capri scelti di bestiame minuto e dell'uccellame e ogni dieci giorni si preparava ogni sorta di vino in abbondanza e non di meno io non ho mai chiesto la provisione assegnata al governatore perché il popolo era già gravato abbastanza a motivo dei lavori o mio Dio ricordati per farmi del bene di tutto quello che ho fatto per questo popolo ne mia capitolo sesto or quando Sambalat Tobia e Geshem l'arabo e gli altri nostri nemici ebbero udito che io avevo riedificate le mura e che non v'era più rimasta alcuna breccia quantunque allora io non avesse ancora messe le imposte alle porte Sambalat e Geshem mi mandarono a dire vieni a trovarci troviamoci assieme in uno dei villaggi della valle di Ono or essi pensavano a farmi del male e io inviai loro dei messi per dire io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere perché il lavoro rimarrebbe gli insospese mentre io lascerei per scendere da voi essi mandarono quattro volte a dirmi la stessa cosa e io risposi loro nello stesso modo allora Sambalat mi mandò a dire la stessa cosa la quinta volta per mezzo del suo servo che aveva in mano una lettera aperta nella quale stava scritto corre voce fra queste genti e Geshum l'afferma che tu e i giudei meditate di ribellarvi e che perciò tu costruisci le mura e stando a quel che si dice tu diventeresti loro re e avresti perfino stabilite dei profeti per far la tua proclamazione a Gerusalemme dicendo v'è un re in giuda or questi discorsi saranno riferiti al re vieni dunque e consultiamoci assieme ma io gli feci rispondere le cose non stanno come tu dici ma sei tu che le inventi perché tutta quella gente ci voleva impaurire diceva le loro mani si rilasseranno e il lavoro non si farà più ma tu o Dio fortifica ora le mie mani ed io andai a casa di Scemaia figliolo di Delaia figliolo di Meteballel che era qui rinchiuso ed egli mi disse troviamoci assieme nella casa di Dio dentro al tempio e chiudiamo le porte del tempio poiché contro verranno a uccidersi noi e verranno a ucciderci di notte ma io risposi un uomo come me si dà egli alla fuga e un uomo qual son io potrebbe egli entrare nel tempio e vivere no io non ventrerò e io compresi che non era mandato da Dio ma aveva pronunziata quella profezia contro di me perché Tobia e Samballat l'avevano pagato e l'avevano pagato per impaurirmi e indurmi ad agire in quel modo e a peccare al fin di aver materia di farmi una cattiva reputazione ed a coprirmi d'onda oh mio Dio ricordati di Tobia di Samballat di queste loro opere ricordati anche della proferessa Noadia e degli altri profeti che han cercato di spaventarmi or le mura furono condotte a fine il venticinquesimo giorno di Elul in cinquantadue giorni e quando tutti i nostri nemici ebbero saputo tutte le nazioni circonvicine furono prese da timore e restarono grandemente avvelite ai loro propri occhi perché riconobbero che quest'opera si era compiuta con l'aiuto del nostro Dio in quei giorni anche dei notabili di Giuda mandavano frequenti lettere a Tobia e ne ricevevano da Tobia ciacché molti in Giuda gli erano legati per giuramento perché gli era genero di scecania figliolo di Arath e Giohanan suo figliolo aveva sposato la figliola di Meshulam figliolo di Berechia essi dicevano del bene a lui perfino in presenza mia e gli riferivano le mie parole e Tobia mandava lettere per impaurirmi Neemia capitolo settimo or quando le mura furono riedificate ed io ebbi messo a posto le porte e i portinai i cantori e i leviti furono stabiliti nei loro uffici io detti il comando di Gerusalemme ad Ananai mio fratello ed Anania governatore del castello perché era un uomo fedele timorato di Dio più di tanti altri e e dissi loro le porte di Gerusalemme non s'aprano finché il sole scotti e mentre le guardie saranno ancora al loro posto si chiudano e si sbarrino le porte e si stabiliscano per far la guardia gli abitanti di Gerusalemme ciascuno al suo turno e ciascuno davanti alla propria casa or la città era spaziosa e grande ma dentro vera poca gente e non vi serano fabbricate case e il mio Dio mi mise in cuore di radunare i notabili magistrati e il popolo per farne il censimento e trovai il registro genealogico di quelli che erano tornati dall'esilio la prima volta e vi trovai scritto quanto segue questi sono quelli della provincia che tornarono dalla cattività quelli che Nabucadnesio re di Babilonia aveva condotti in cattività e che tornarono a Gerusalemme in Giuda ciascuno nella sua città essi tornarono con Zorobabele Yahshua Neemia Azaria Ramia Nahamani Mardoccheo Bilsham Mishparet Bigvai Nehum e Baanna censimento degli uomini del popolo di Israele figlioli di Parosh 2172 figlioli di Shefatia 372 figlioli di Ara 652 i figlioli di Pahat Mohab dei figlioli di Yeshua e di Yahab 2818 figlioli di Elam 1254 figlioli di Zatù 845 figlioli di Zaccai 760 figlioli di Binui 648 figlioli di Bebai 628 figlioli di Asgad 2322 figlioli di Adonikam 667 figlioli di Bigvai 2067 figlioli di Adin 655 figlioli di Ater della famiglia di Ezachia 98 figlioli di Achun 328 figlioli di Bezai 324 figlioli di Arif 112 figlioli di Gabaon 95 figlioli di Bet Rendine Tofa 188 figlioli di Anathot 128 uomini di Bet Asmavet 42 uomini di Kariet Jeramin di Kefira e di Be'erot 643 uomini di Rama e di Geba 621 uomini di Mik Mas 122 uomini di Bet e di Ai 123 uomini di un altro Nebo 52 figlioli di un altro Elan 1254 figlioli di Harim 320 figlioli di Jericho 345 figlioli di Lod di Adid ed Ono 721 figlioli di Shenaa 3930 sacerdoti figlioli di Geadia della casa di Gessua 963 figlioli di Imer 1052 figlioli di Paschur 1247 figlioli di Arin 1017 Leviti figlioli di Eshua e di Kadmiel dei figlioli di Odeva 74 Cantori figlioli di Asaf 148 Portinai figlioli di Shelum figlioli di Ater figlioli di Talon figlioli di Acub figlioli di Attita figlioli di Shobai 138 Netinei figlioli di Tziha figlioli di Asufa figlioli di Tabo figlioli di Keros figlioli di Sia figlioli di Padon figlioli di Levana figlioli di Agaba figlioli di Selmai figlioli di Ana figlioli di Gedel figlioli di Gea figlioli di Reahia figlioli di Rezzin figlioli di Necoda figlioli di Gazam figlioli di Uzza figlioli di Pasea figlioli di Besei figlioli di Meuhim figlioli di Pachbuk, figlioli di Akufa, figlioli di Arhur, figlioli di Baslin, figlioli di Mehidda, figlioli di Harsha, figlioli di Bakos, figlioli di Sisera, figlioli di Temmach, figlioli di Nezia, figlioli di Atifa. I figlioli dei servi di Salomone, figlioli di Sotai, figlioli di Sofaret, figlioli di Perida, figlioli di Gela, figlioli di Darkon, figlioli di Gidel, figlioli di Scefatia, figlioli di Attil, figlioli di Pokeret, Atsebahim, figlioli di Amon. Totale dei Nettinei e dei figlioli dei servi di Salomone, 392. Ed ecco quelli che tornarono da Tel Melath, da Tel Arsha, da Cherubbadom e da Immer, che non avevano potuto stabilire la loro genealogia patriarcale per dimostrare che erano israeliti. I figlioli di Dellaia, figlioli di Tobia, figlioli di Necoda, 642. Di tre sacerdoti, figlioli di Abbaia, figlioli di Akots, figlioli di Barzilai, il quale aveva sposato una delle figlie di Barzilai, il Gala Adita, fu chiamato col nome loro. Questi cercarono i loro titoli genealogici, ma non li trovarono, e furono quindi esclusi come impuri dal sacerdozio. E il governatore disse loro di non mangiare cose santissime, finché non si presentasse un sacerdote per consultare Dio con l'Urim e il Tumim, e la radunanza tutta assieme, noverava 442.360 persone, senza contare i loro servi, le loro serve, che ammontavano a 7337. Avevano pure 245 cantori e cantatrici, avevano 736 cavalli, 245 muli, 435 cammelli, 6720 asini. Alcuni dei capi famiglia offrirono dei doni per l'opera. Il governatore diede al tesoro mille dariche d'oro, 50 coppe, 530 vesti sacerdotali, e tra i capi famiglia ve ne furono che dettero al tesoro dell'opera 20.000 dariche d'oro, 2.200 mine d'argento. Il resto del popolo, dette 20.000 dariche d'oro, 2.000 mine d'argento, e 66 vesti sacerdotali. I sacerdoti, i leviti, i portinai, i cantori, la gente del popolo, i netinei, e tutti gli israeliti si stabilirono nelle loro città. Neemia, capitolo ottavo Come fu giunto il settimo mese, e i figlioli d'Israele si furono stabiliti nelle loro città, tutto il popolo si radunò come un sol uomo sulla piazza che è davanti alla porta delle acque, e disse a Esdra lo scriva che portasse il libro della legge di Mosè che l'Eterno aveva data a Israele. E il primo giorno del settimo mese, il sacerdote Esdra portò la legge davanti alla radunanza composta di uomini, di donne, e di tutti quelli che erano capaci di intendere. E lesse il libro sulla piazza che è davanti alla porta delle acque, dalla mattina a presto fino a mezzogiorno in presenza degli uomini, delle donne, e di quelli che erano capaci di intendere, e tutto il popolo teneva tese le orecchie a sentire il libro della legge. Esdra lo scriva, stava sopra una tribuna di legno che era stata fatta apposta, e accanto a lui stavano a destra Esdra apri il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava in un luogo più eminente, e come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse l'Eterno, lì Dio grande, e tutto il popolo rispose, Amen, Amen, alzando le mani, e si inchinarono e si prostrarono con la faccia a terra dinnanzi all'Eterno. Jeshua, Banai, Sherabia, Yamin, Akub, Shebatai, Obdia, Asseia, Calita, Azaria, Iosabad, Anan, Pelaya e gli altri leviti spiegavano la legge al popolo, e il popolo stava in piedi al suo posto. Essi leggevano nel libro della legge di Dio distintamente, e ne davano il senso per far capire al popolo quel che si andava leggendo. Nemia, che era il governatore, Esdra sacerdote, scriva, e i leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo, «Questo giorno è consacrato all'Eterno al vostro Dio. Non fate condoglio e non piangete, poiché tutto il popolo piangeva ascoltando le parole della legge. Poi Neemia disse loro, Andate, mangiate vivande grasse e bevete vini dolci, e mandate delle porzioni a quelli che nulla hanno di preparato per loro, poiché questo giorno è consacrato al Signor nostro. Non v'attristate, poiché il Gaudio dell'Eterno è la vostra forza». I leviti facevano far silenzio a tutto il popolo, e dicevano, «Tascete, perché questo giorno è santo. Non v'attristate». E tutto il popolo se ne andò a mangiare, a bere, a mandar porzioni ai poveri, a far gran festa, perché avevano intese le parole che erano state loro spiegate. E il secondo giorno i capi famiglia di tutto il popolo, i sacerdoti e i leviti, si radunarono presso Ezra lo scriba per esaminare le parole della legge, e trovarono scritto nella legge che l'Eterno aveva data per mezzo di Mosè che i figlioli di Israele dovevano dimorare in capanne durante la festa del settimo mese, e che in tutte le loro città e in Gerusalemme si doveva pubblicare questo bando, «Andate al monte, portatene rami d'ulivo, rami d'ulivastro, rami di mirto, rami di palma e rami d'alberi ombrosi, per fare delle capanne come sta scritto». Allora il popolo andò fuori, portò i rami, e si fecero ciascuno la sua capanna sul tetto della propria casa, nei loro cortili, nei cortili della casa di Dio, sulla piazza della porta delle acque e sulla piazza della porta di Efraim. Così tutta la radunanza di quelli che erano tornati dalla cattività si fece delle capanne e dimorò nelle capanne. Dal tempo di Giosuè, figliolo di Nun, fino a quel giorno, i figlioli di Israele non avevano fatto nulla di simile, e vi fu grandissima allegrezza. Ed Esra fece la lettura del libro della legge di Dio ogni giorno, dal primo all'ultimo. La festa si celebrò durante sette giorni, e l'ottavo vi fu solenne radunanza, com'era ordinato. Neemia, capitolo nono Or, il ventiquattresimo giorno dello stesso mese, i figlioli di Israele si radunarono vestiti di sacco e coperti di terra per celebrare un digiuno. Quelli che appartenevano alla progenie di Israele si separarono da tutti gli stranieri, si presentarono dinnanzi a Dio, e confessarono i loro peccati e le iniquità dei loro padri. S'alsarono in pie nel posto dove si trovavano, e fu fatta la lettura del libro della legge dell'Eterno del loro Dio, per un quarto del giorno e per un altro quarto, essi fecero la confessione dei peccati, e si prostrarono davanti all'Eterno al loro Dio. Ieshua, Bani, Cadmiel, Shebania, Bunni, Sherabia, Bani e Canani salirono sulla tribuna dei Leviti e gridarono ad alta voce all'Eterno al loro Dio. E i Leviti, Ieshua, Cadmiel, Bani, Ashabeneia, Sherabia, Odia, Shebania e Petania, dissero Levativi e benedite l'Eterno il vostro Dio d'eternità in eternità. Si benedica il nome tuo glorioso che è esaltato al di sopra d'ogni benedizioni, d'ogni lode. E tu, tu solo sei l'Eterno. Tu hai fatto i cieli, i cieli dei cieli e tutto il loro esercito, la terra e tutto ciò che sta sovressa, i mari e tutto ciò che è in essi, e tu fai vivere tutte queste cose e l'esercito dei cieli ti adora. Tu sei l'Eterno, l'Iddio che scegliesti Abramo, lo traesti fuori da Ur dei Caldei e gli desti il nome di Abramo. Tu trovasti il cuor suo fedele davanti a te e fermasti con lui un patto promettendogli di dare alla sua progenie il paese dei Cananei, degli Ittei, degli Amorei, dei Ferasei, dei Gabusei e dei Ghirgasei. Tu hai mantenuto la tua parola perché sei giusto. Tu vedesti l'afflizione dei nostri padri in Egitto e udisti il loro grido presso il Mar Rosso e operasti miracoli e prodigi contro Faraone, contro tutti i suoi servi, contro tutto il popolo del suo paese perché sapevi che essi avevano trattato i nostri padri con prepotenza e ti facesti un nome come quello che hai al di d'oggi. E fendesti il mare davanti a loro, sì che passarono per mezzo al mare sull'asciutto e quelli che li inseguivano tu li precipitasti nell'abisso come una pietra in fondo alle acque potenti e li conducesti di giorno con una colonna di nuvola e di notte con una colonna di fuoco per rischiarare la loro via per la quale dovevano camminare e scendesti sul monte Sinai e parlasti con loro dal cielo ed esti loro prescrizioni giuste e leggi di verità buoni precetti e buoni comandamenti e facesti loro conoscere il tuo santo sabato ed esti loro comandamenti precetti ed una legge per mezzo di Mosè tuo servo ed esti loro pane dal cielo quando erano affamati e facesti scaturire acqua dalla rupe quando erano assetati e dicesti loro che andassero a prendere possesso del paese che avevi giurato di dar loro ma essi i nostri padri si condussero con superbia indurarono le loro servici e non ubbidirono ai tuoi comandamenti rifiutarono d'ubbidire e non si ricordarono delle meraviglie che tu avevi fatto apro loro e indurarono le loro servici e nella loro ribellione si vollero dare un capo per tornare alla loro schiavitù ma tu sei un Dio pronto a perdonare misericordioso pieno di compassione lento all'ira e di gran benignità e non li abbandonasti neppure quando si fecero un vitello di getto e dissero ecco il tuo Dio che t'ha tratto fuori d'Egitto e tu tragiarno gravemente e tu nella tua immensa misericordia non li abbandonasti nel deserto la colonna di nuvola che stava su di loro non cessò di guidarli durante il giorno per il loro cammino e la colonna di fuoco non cessò di rischiarar loro la via per la quale dovevano camminare e tu desti loro il tuo buono spirito per istruirli e non rifiutasti la tua manna alle loro bocche e desti loro dell'acqua quando erano assetati per quarant'anni li sostenesti nel deserto e non mancò loro nulla le loro vesti non si logorarono e i loro piedi non si gonfiarono ed esti loro regni e popoli e li spartisti fra loro per contrade ed essi possedettero il paese di Sihon cioè il paese del re di Eshbon e il paese di Og re di Basham e moltiplicasti i loro figliuoli come le stelle del cielo e li introducesti nel paese in cui avevi detto ai loro padri loro che li faresti entrare per possederlo e i loro figliuoli ventrarono e presero possesso del paese tu umiliasti dinanzi a loro i cananei che abitavano il paese e li desti nelle loro mani con i loro re e con popoli del paese perché li trattassero come loro piaceva ed essi si impadronirono di città fortificate ed una terra fertile e possedettero case piene d'ogni bene cisterne belle scavate vigne uliveti alberi fruttiferi in abbondanza e mangiarono e si saziarono e ingrassarono e vissero in delizie per la tua grande bontà ma essi furono disubbidienti si ribellarono contro di te si gettarono la tua legge dietro le spalle uccisero i tuoi profeti che li scongiuravano di tornare a te e tu oltraggiarono gravemente perciò tu li desti nelle mani dei loro nemici che li oppressero ma al tempo della loro distretta essi gridarono a te e tu li esaudisti dal cielo e nella tua immensa misericordia tu desti loro dei liberatori che li salvarono dalle mani dei loro nemici ma quando avevano riposo ricominciavano a fare il male dinanzi a te perciò tu li abbandonavi nelle mani dei loro nemici i quali diventavano loro dominatori poi quando ricominciavano a gridare a te tu li esaudivi dal cielo e così nella tua misericordia più volte li salvasti tu li scongiuravi per farli tornare alla tua legge ma essi si inorgoglivano e non ubbidivano ai tuoi comandamenti peccavano contro le tue prescrizioni che facevano vivere chi li mette in pratica la loro spalla rifiutava il gioco essi induravano le loro servici non volevano ubbidire e pazientasti con essi molti anni li scongiurasti per mezzo del tuo spirito e per bocca dei tuoi profeti ma essi non volero prestare orecchio e tu li desti nelle mani dei popoli dei paesi stranieri però nella tua immensa compassione tu non li sterminasti del tutto e non li abbandonasti perché sei un Dio clemente e misericordioso ora dunque o Dio nostro Dio grande potente tremendo che mantieni il patto e la misericordia non paian poca cosa agli occhi tuoi tutte queste afflizioni che sono piombate addosso a noi ai nostri re ai nostri capi ai nostri sacerdoti ai nostri profeti ai nostri padri e a tutto il popolo dal tempo del re di Assiria al di Doci tu sei stato giusto in tutto quello che ci è avvenuto perché tu hai agito fedelmente mentre noi ci siamo condotti impiamente i nostri re i nostri capi i nostri sacerdoti i nostri padri non hanno messa in pratica la tua legge non hanno obbidito né ai comandamenti né agli ammonimenti coi quali tu li scongiuravi ed essi mentre godevano del loro regno dei grandi benefici che tu largivi loro e del vasto e fertile paese che tu avevi messo a loro disposizione non ti servirono e non abbandonarono le loro opere malvage ed oggi eccoci schiavi eccoci schiavi nel paese che tu desti ai nostri padri perché ne mangiassero i loro frutti e ne godessero i beni ed esso moltiplica i suoi prodotti per i re ai quali tu ci hai sottoposti a cagione dei nostri peccati e che son padroni dei nostri corpi e del nostro bestiame a tal loro talento e noi siamo in grande distretta e a motivo di questo noi fermammo un patto e lo mettemmo per iscritto e i nostri capi i nostri leviti i nostri sacerdoti vi apposero il loro sigillo Neemia capitolo decimo a motivo di tutto questo noi fermammo un patto stabile e lo mettemmo per iscritto e i nostri capi i nostri leviti i nostri sacerdoti vi apposero il loro sigillo quelli che vi apposero il loro sigillo furono i seguenti Neemia il governatore figliuolo di Acalia e Seducia Seraia Azzaria Geremia Pasciur Amaria Marchia Attush Shebania Maluc Arim Meremoth Obadia Daniele Gineton Baruch Meshulam Abijah Mijamin Maatsia Birgai Shemahia questi erano sacerdoti i leviti Yeshua figliuolo di Azzania Binui dei figlioli di Anadat Gadiniel e i loro fratelli Shebania Odia Kilita Pelia Anan Mika Rohob Ashabia Zakur Sherebia Shabania Odia Bani Beninu Capi Capi del Popolo Parosh Pat Mohab Elam Zatu Bani Buni Azgad Bebai Adonia Begvai Adin Atter Ezikia Azur Odia Ashwum Betzai Arif Anathoth Nebai Max Pia Meshulam Ezir Meshzabel Zadok Yadua Peretia Anan Anania Hosea Anania Asashub Aloshep Pila Shobek Rehum Ashabna Mahaseya Ahia Anan Anam Aluk Harim Baana Il resto del popolo I sacerdoti I leviti I portenai I cantori I netinei E tutti quelli Che erano separati Dai popoli Dei paesi stranieri Per aderire Alla legge di Dio Le loro mogli I loro figliuoli Tutti quelli Che avevano Conoscimento E intelligenza Si unirono Ai loro fratelli Più riguardevoli Tra loro E si impegnarono Con esacrazione E giuramento A camminare Nelle vie di Dio Data per mezzo Di Mosè Servo di Dio Ad osservare E a mettere In pratica Tutti i comandamenti Dell'Eterno Del Signor Nostro Le sue prescrizioni E le sue leggi A non dare Le nostre figliuole Ai popoli Del paese E a non prendere Le figliuole Per i nostri figliuoli A non comprare nulla In giorno di sabato O in un altro giorno sacro Dai popoli Che portassero a vendere In giorno di sabato Qualsivoglia sorta Di merci O di derrate A lasciare in riposo La terra Ogni settimo anno A non esigere Il pagamento Di verun debito Ci imponemmo pure Per legge Di dare Ogni anno Il terzo Di un ciclo Per il servizio Della casa E per tutta L'opera Della casa Del nostro Dio E tirando a sorte Noi sacerdoti Leviti E popolo Regolamo Quel che concerne L'offerta Della legna Al fin Di portarle Secondo le nostre case Patriarcali Alla casa Del nostro Dio A tempi fissi Anno per anno Perché bruciassero Sull'altare Dell'eterno Del nostro Dio Come sta scritto Nella legge Ci impegniamo A portare Ogni anno Nella casa Dell'eterno Le primizie Del nostro suolo E le primizie D'ogni frutto Di qualunque albero Come anche I primogeniti Dei nostri figlioli E del nostro bestiame Conforme sta scritto Nella legge E i primogeniti Delle nostre mandri E dei nostri greggi Per presentarli Nella casa Del nostro Dio Ai sacerdoti Che fanno Il servizio Della casa Del nostro Dio E ci impegniamo pure Di portare Ai sacerdoti Nelle camere Della casa Del nostro Dio Le primizie Della nostra pasta Le nostre offerte Prelevate Le primizie Dei frutti Di qualunque albero Del vino E dell'olio E di dare La decima Delle rendite Del nostro suolo Ai leviti I quali debbono Prendere Esi stessi Queste decime In tutti i luoghi Da noi coltivati E un sacerdote Figliolo Da aronne Sarà Coi leviti Quando preleveranno Le decime E i leviti Porteranno La decima Della decima Alla casa Del nostro Dio Nelle stanze Che servano Di magazzino Poiché In quelle stanze I figlioli Di Israele E i figlioli Di Levi Debban portare L'offerta Prelevata Sul frumento Sul vino E sull'olio Quivi Sono gli utensili Del santuario I sacerdoti Che fanno Il servizio I portinai E i cantori Noi ci impegniamo Così A non abbandonare La casa Del nostro Dio Neemia Capitolo Undicesimo I capi del popolo Si stabilirono A Gerusalemme Il resto Del popolo Tirò a sorte Per farne venire Uno su dieci Ad abitare Gerusalemme La città santa Gli altri nove Dovevano Rimanere Nelle altre città E il popolo Benedisse Tutti quelli Che soffrirono Volenterosamente D'abitare In Gerusalemme Ecco i capi Della provincia Che si stabilirono A Gerusalemme Mentre che Nella città Di Giuda Ognuno si stabilì Nella sua proprietà Nella sua città Israeliti Sacerdoti Leviti Netinei E i figlioli Dei servi Di Salomone A Gerusalemme Dunque Si stabilirono Dei figlioli Di Giuda E dei figlioli Di Beniamino Dei figlioli Di Giuda Atania Figliolo Di Uzzia Figliolo Di Zaccaria Figliolo D'Ameria Figliolo Di Scefatia Figliolo Di Mahal Eher Dei figlioli Di Perez E Messia Figliolo Di Baruch Figliolo Di Col Ezek Figliolo Di Azzia Figliolo Di Adahia Figliolo Di Joarin Figliolo Di Zaccaria Figliolo Di Scilonita Totale Dei figlioli Di Perez Che si stabilirono A Gerusalemme 468 Uomini Valorosi Dei figlioli Di Beniamino Questi Sulu Figliolo Di Mashlum Figliolo Di Joed Figliolo Di Pedahia Figliolo Di Colahia Figliolo Di Maeseia Figliolo Di Tier Figliolo Di Isaia E dopo Lui Gabai Salai In tutto 928 Gioiele Figliolo Di Zieri Era loro Capo E Giuda Figliolo Di Essenua Era il secondo Capo Della Città Dei Sacerdoti Gedadia Figliolo Di Joraib Iachim Zeraia Figliolo Di Elkaya Figliolo Di Meshulam Figliolo Di Zadok Figliolo Di Meraiot Figliolo Di Hathitub Preposto Alla Casa Di Dio E loro Fratelli Addetti All'Opera Della Casa In Numero Di 822 E Adahia Figliolo Di Joraam Figliolo Di Pelahia Figliolo Di Amzi Figliolo Di Zaccaria Figliolo Di Pasciur Figliolo Di Malki Ija E i Suoi Fratelli Capi Delle Case Patriarcali In Numero 242 E Amstai Figliolo Di Azril Figliolo Di Azai Figliolo Di Mescilomot Figliolo Di Imer E i loro Fratelli Uomini Valorosi In Numero Di 128 Zabdiel Figliolo Di Gedolin Era Il loro Capo Dei Leviti Shemaya Figliolo Di Ashub Figliolo Di Azrican Figliolo Di Ashabia Figliolo Di Buni Shab Tehai E Josabab Nella Città Nella Città 284 I Portinai Akub Talmon E i loro Fratelli Custodi Delle Porte 172 Il resto Il resto Il resto di Israele I sacerdoti E i Leviti Si stabilirono In tutte le città Di Giuda Ciascuno Nella sua proprietà I Netinei Si stabilirono Sulla collina E Zia E Ghispa Erano a capo Dei Netinei Il capo Dei Leviti A Gerusalemme Era Uzzi Figlio Di Banni Figliolo Di Ashabia Figliolo Di Matania Figliolo Di Mica Dei figlioli Di Asaf Che erano Cantori Addetti Al servizio Della casa Di Dio Poiché Vera Un ordine Del re Che concerneva I cantori E Vera Una provvisione Assicurata Loro Giorno Per giorno E Petania Figliolo Di Meshezabel Dei figlioli Di Zerach Figliolo Di Giuda Era commissario Del re Per tutti Gli affari Del popolo Quanto Ai villaggi Con le campagne Alcuni Dei figlioli Di Giuda Si stabilirono A Kiriat Arba E nei luoghi Che ne dipendevano A Dibun E nei luoghi Che ne dipendevano A Jacob Seal E nei villaggi Che ne dipendevano In Yeshua In Molada In Beth Palet In Azashual In Ber In Ber Siba E nei luoghi Che ne dipendevano A Ziklag In Mecona Nei luoghi Che ne dipendevano In Hel Rimong E a Zora In Jamur E in Zanoat In Adula E nei loro villaggi In Lakis E nelle sue campagne In Azachea E nei luoghi Che ne dipendevano Si stabilirono Da Ber Siba Fino Nella valle Di Inom I figlioli Di Beniamino Si stabilirono A Geba In La A Mikmas Ad Aijah A Betel E nei luoghi Che ne dipendevano Ad Anatot Dei Leviti Alcune classi appartenenti A Giuda Furono unite A Beniamino Nemia Capitolo Dodicesimo Questi sono I sacerdoti E i Leviti Che tornarono Con Zorobabel Figliolo Di Shetier E con Di Eshua Seraia Geremia Esdra Amaria Malluc Atush Shecania Rehum Meremot Ido Ginetoi Abija Mijamia Maadia Bilga Shemaya Joyarib Jedahia Zelut Amok Ilkia Jedahia Questi erano I capi dei sacerdoti E dei loro fratelli Al tempo di Jeshua Leviti Jeshua Binui Kadmiel Sherebia Giuda Mattania Che dirigeva Con i suoi fratelli Il canto delle laudi Bak Bukia E Unni Loro fratelli S'alternavano Con loro Secondo E loro turno Jeshua Generò Joachim Joachim Generò Eliashib Eliashib Generò Yoahada Yoahada Generò Jonathan Jonathan Generò Giudad Ecco Quali erano Al tempo Di Joachim I capi di famiglie Sacerdotali Della famiglia Di Seraia Meraia Di quella Di Geremia Anania Di quella Di Ezra Meshulam Di quella Di Amaria Gionan Di quella Di Melikù Jonathan Di quella Di Scevania Giuseppe Di quella Di Arim Anna Di quella Di Meraiot Elkai Di quella Di Iddo Zaccaria Di quella Di Ginetot Meshulam Di quella Di Abija Zikri Di quella Di Miniamin Di quella Di Molat Piltai Di quella Di Bilga Shumanua Di quella Di Shemaia Jonathan Di quella Di Jorahib Matenai Di quella Di Gedaia Uzi Di quella Di Selai Kalai Di quella Di Amok Eber Di quella Di Ilchia Ashabia Di quella Di Gedaia Natnael Quanto ai Leviti I capi di famiglia Furono iscritti Al tempo Di Eliashi Di Giodaia Di Gionan Di Giadua E i sacerdoti Sotto il regno Di Dario Il Persiano I capi Delle famiglie Levitiche Furono iscritti Nel libro Delle cronache Fino al tempo Di Giohanan Figliuolo Di Eliashib I capi Dei Leviti Ashabia Scerabia Jeshua Figliuolo Di Kadmiel E i loro Fratelli S'alternavano Con essi Per lodare E celebrare L'Eterno Conforme All'ordine Di Davide Uomo Di Dio Permute Secondo Il loro Turno Matania Bakbukia Obdia Mashalum Talmon Akub Erano portinai E facevano la guardia Ai magazzini Delle porte Questi Vivevano Al tempo Di Joachim Figliolo Di Eshua Figliolo Di Yosadak Ai tempi Di Enemia Il governatore Di Esra Sacerdote E scriva Alla dedicazione Delle mura Di Gerusalemme Si mandarono A cercare I leviti Di tutti i luoghi Dov'erano Per farli venire A Gerusalemme Al fin Di fare La dedicazione Con gioia Con laudi E cantici E suon Di cembali Salteri Ecc E i figliuoli Dei cantori Si radunarono Dal distretto Intorno a Gerusalemme Dai villaggi Dei Netofaititi Da Bet Gilgal E dal territorio Di Geba E Daz-Mavet Poiché I cantori Si erano edificati Dei villaggi Nei dintorni Di Gerusalemme I sacerdoti E i leviti Si purificarono E purificarono Il popolo Le porte E le mura Poi Io feci salire Sulle mura I capi di Giuda E formai Due grandi Corico E relativi Cortei Il primo Si incamminò Dal lato destro Sulle mura Verso la porta Del Levante E dietro Questo coro Camminavano Oshaia La metà Dei capi Di Giuda Azaria Ezra Meschuluma Giuda Beniamino Shemai Geremia Dei figlioli Dei sacerdoti Con le trombe Zaccaria Figliolo Di Jonathan Figliolo Di Shemaia Figliolo Di Matania Figliolo Di Micaiah Figliolo Di Zacur Figliolo D'Asaf E i suoi fratelli E i suoi fratelli Shemaia Shemaia Azareel Milalai Gilalai Mahai Natanahel Giuda Ananani Con gli strumenti musicali di Davide Uomo di Dio Ezra Lo scriva Camminava la loro testa Giunti che furono alla porta della sorgente Montarono di rimpetto a loro la scalinata della città di Davide Là dove le mura salgono al di sopra del livello della casa di Davide E giunsero alla porta delle acque a oriente Il secondo coro si incamminò nel senso opposto E gli andavo dietro con l'altra metà del popolo sopra le mura Passando al di sopra della torre dei forni Esso andò fino alle mura larghe Poi al di sopra della porta dei fraim Della porta vecchia Della porta dei pesci Della torre di Ananael Della torre di Mea Fino alla porta delle pecore E il coro si fermò alla porta della prigione I due cori Si fermarono nella casa di Dio E così feci io con la metà dei magistrati che era meco E i sacerdoti Eliakim Maaseia Miniamin Micaiah Elioenai Zaccaria Anania Con le trombe E Maaseia Shemaia Elezar Uzi Joanam Malchigia Elam Etzer E i cantori Fescero risonare forte le loro voci diretti da Israia In quel giorno il popolo offri numerosi sacrifici E si rallegrò Perché Dio gli aveva concesso una grande gioia Anche le donne e i fanciulli si rallegrarono E la gioia di Gerusalemme si sentiva da lontano In quel tempo Gli uomini furono proposti Che servissero ai magazzini delle offerte Delle primizie delle decime Onde si raccogliessero dai contadi delle città Le parti assegnate dalla legge ai sacerdoti e ai leviti Poiché i giudei Gioivano a vedere i sacerdoti ed i leviti ai loro posti E questi osservavano ciò che si riferiva al servizio del loro Dio E alle purificazioni Come facevano dal canto loro I cantori e i portinai Conforme all'ordine di Davide e di Salomone suo figliuolo Poiché anticamente Al tempo di Davide e di Asaf Verano dei capi dei cantori E dei canti di laude e di azioni di grazia a Dio Tutto Israele al tempo di Zorobabela e di Neemia Dava giorno per giorno le porzioni assegnate ai cantori e ai portinai Dava ai leviti le cose consacrate E i leviti davano ai figliuoli d'Aronne Le cose consacrate che loro spettavano Neemia capitolo tredicesimo In quel tempo si lesse in presenza del popolo Il libro di Mosè E vi si trovò scritto Che la munita e il maobita Non debbono mai in perpetuo Entrare nella radunanza di Dio Perché non erano venuti incontro Ai figliuoli di Israele Con del pane e dell'acqua E perché avevano prezzolato Al loro danno Balaam per maledirli Ma il nostro Dio Convertì la maledizione in benedizione E quando il popolo ebbe udita la legge Separò da Israele ogni elemento estraniero Or prima di questo Il sacerdote Elia Shib Che era preposto alle camere della casa del nostro Dio Ed era parente di Tobia Aveva messo a disposizione di quest'ultimo Una camera grande Là dove prima d'allora Si riponevano le offerte L'incenso Gli utensili La decima del grano Del vino e dell'olio E tutto ciò che aspettava per legge Ai leviti Ai cantori Ai portinai E la parte che ne prevaleva Per i sacerdoti Ma quando si faceva tutto questo Io non ero a Gerusalemme Perché l'anno trentaduesimo Di Artaserse Re di Babilonia Ero tornato presso il Re E in capo A qualche tempo Avendo ottenuto un congedo dal Re Tornai a Gerusalemme E mi accorsi del male Che Elia Shib aveva fatto Per amore di Tobia Mettendo a sua disposizione Una camera nei cortili Della casa di Dio La cosa mi dispiacque fortemente E feci gettare fuori dalla camera Tutte le masserizie appartenenti a Tobia Poi ordinai Che si purificassero quelle camere E vi feci ricollocare Gli utensili della casa di Dio Le offerte E l'incenso Seppi pure Che le porzioni dovute ai leviti Non erano state date E che i leviti E i cantori Incaricati del servizio Se ne erano fuggiti Ciascuno alla sua terra Ed io censurai i magistrati E dissi loro Perché la casa di Dio Ed è stata abbandonata Poi Radunai le viti E i cantori E li ristabilì Ne loro uffici Allora Tutto Giuda Portò nei magazzini Le decime Del frumento Del vino E dell'olio E affidai E affidai La sorveglianza Dei magazzini Al sacerdote Scela mia Allo scriva Zadok E a Peradia Uno delle viti Ai quali aggiunsi Anam Figliolo di Zaccur Figliolo di Matania Perché erano Reputati uomini Fedeli Il loro ufficio Era di far Le ripartizioni Fra i loro Fratelli Ricordati Di questo Di me O Dio E non cancellare Le opere pie Che io ho fatto Per la casa Del mio Dio E per il suo servizio In quei giorni Osservai In Giuda Di quelli Che calcavano L'uva Negli strettoi In giorno di sabato Altri che portavano Caricandolo Su degli asini Del grano Ed anche Del vino Dell'uva Dei fichi Ed ogni sorta di cose Che facevano venire A Gerusalemme In giorno di sabato Io le rimproverai A motivo del giorno In cui vendevano Le loro derrate C'erano anche Dei siri Stabiliti a Gerusalemme Che portavano Del pesce Ed ogni sorta di cose E le vendevano Ai figlioli di Giuda In giorno di sabato E in Gerusalemme Allora Io censurai I notabili Di Giuda E dissi loro Che vuol dire Questa male azione Che fate Profanando il giorno Del sabato I nostri padri Non fecero Essi così E lì Dio nostro Fece per questo Cadere su noi E su questa città Tutti questi mali E voi accrescete Lì ardente Contro l'Israele Profanando il sabato E non appena Le porte di Gerusalemme Cominciarono Ad essere Nell'ombra Prima del sabato Io ordinai Che le porte Fossero chiuse E che non si riaprissero Fino a Dopo il sabato E collocai Alcuni Dei mie servi Alle porte Affinché nessun carico Entrasse in città Durante il sabato Così i mercanti E venditori D'ogni sorta di cose L'una e due volte Passarono la notte Fuori di Gerusalemme Allora io li rimproverai E dici loro Perché passate voi La notte davanti Alle mura Se lo rifate Vi farò arrestare Da quel momento Non vennero più Il sabato Io ordinai Anche ai leviti Che si purificassero E venissero A costruire le porte Per santificare Il giorno del sabato Anche per questo Ricordati di me O Dio mio Ed abbi Pietà di me Secondo la grandezza Della tua misericordia In quei giorni Vidi pure Dei giudei Che si erano Ammogliati Con donne Di Astod Di Amon E di Moab E la metà Dei loro figlioli Parlava Allasdodeto Ma non sapeva Parlare la lingua Dei giudei Conosceva soltanto La lingua Di questo Di quest'altro popolo E io li censurai Li maledissi E ne picchiai alcuni Strappai loro i capelli E li feci giurare Nel nome di Dio Che non darebbero Le loro figliole Ai figlioli Di costoro E non prenderebbero Le figliole Di coloro Per i loro figlioli Ne per loro stessi E dissi Salomone Re di Israele Non peccò Egli forse Appunto in questo E certo Fra le molte nazioni Non ci fu Re simile a lui Era amato Dal suo Dio E Dio L'aveva fatto Re di tutto Israele Non di meno Le donne straniere Fecero peccare Anche lui E sarà Egli a dir Di voi Che commettete Questo gran male Che siete infedeli Al nostro Dio Prendendo mogli Straniere Uno dei figlioli Ordinai pure Di far sì Circa l'offerta Delle legna Dei tempi stabiliti E circa le primizie Ricordati di me O mio Dio Per farmi Del bene L'altra D Richter Grazie a tutti